Un omaggio al Napoli Basket che nei decenni scorsi ha scritto pagine di sport, tifo e aggregazione è questo che ha spinto il giornalista Giuseppe Farese a realizzare il testo Un tempo bello, gli anni Ottanta del Napoli Basket, Interviste e Ricordi. Il libro, edito da Absolutely Free Libri, mira a raccontare un'epoca importante quando in città arrivavano cestisti di livello anche dalla NBA. Nel testo presentato presso la libreria Mondadori del Vomero a Napoli, spazio anche a legame negli anni Ottanta che univa la squadra napoletana di basket con i campioni azzurri a partire da Diego. Ascoltiamo l'autore Giuseppe Farese. Un libro anche un po' autobiografico perché racconta un tempo bello della mia giovinezza agli anni Ottanta quando io ero ragazzo e in compagnia di mio padre, mio fratello seguivo tutte le domeniche le partite al Mario Argento. Era un tempo bello anche per la squadra, per la società. In quegli anni all'ombra del Vesuvio arrivarono campioni indimenticabili, Lee Johnson, Rudy Woods e poi ancora Mark Smith, ancora Walter Berry, Alex English. Insomma veramente una quantità enorme di grandi campioni che hanno lasciato il segno. Furono stagioni guidate dalla figura dell'ingegnere Nicola Di Piano che era il presidente di quella squadra che accompagnò più di un decennio del basket napoletano. Credo che il grande valore aggiunto di quel tempo bello sia il fatto che quella squadra non raggiunse in verità nessun traguardo, in particolare non vinse nessuna Coppa, nessun campionato. Nonostante questo ancora oggi tra gli appassionati del basket napoletano proprio quella squadra viene ricordata con grande simpatia, con grande affetto. La domenica al Mario Argento erano frequenti, diciamo così, arrivare Diego Armando Maradona, Bruno Giordano, Giovanni Francini, tutti i campioni del Napoli poi scudettato e visite che erano ricambiate dai cestisti al mercoledì sera andavano a seguire la Coppa UEFA al San Paolo. Quindi un legame molto forte tra le due società che è sancito anche dalla famosa partita, dalle due famose partite calcio-basket per beneficenza che si giocarono proprio al Palasport Mario Argento in cui Maradona si cimentò nel basket. Il team Napoli Basket quest'anno è riuscito a salvarsi e l'auspicio è vedere la squadra lottare per grandi traguardi. Ora gioca al Palabarbuto, ma c'è grande rammarico per le condizioni fatiscenti in cui oggi versa il Palasport Mario Argento che ospitava le partite di basket in quel passato glorioso. Una storia molto triste, purtroppo oggi ancora questa città, dopo più di vent'anni, deve vedere le macerie di quello che fu il tempio del basket napoletano che purtroppo languono e gridano vendetta a tutto lo sport napoletano. Grazie.